È stato un anno ricchissimo di celebrazioni, anniversari, sì, i personaggi che popolano il mondo Disney sono decine, 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 quindi non manca mai il modo di festeggiare qualche evento importante. Abbiamo da festeggiare un papero l'anno prossimo, quindi credo che eventi importanti saranno dedicati al nostro amato paperino, ma più che altro celebreremo come facciamo ogni settimana il nostro settimanale del cuore, con tante storie vi assicuro decisamente importanti, dal taglio inusuale, su cui sono a lavoro artisti di grandissimo livello. Se posso fare un nome, per esempio un paio di nomi, tra i tanti Motura e Bigarella stanno lavorando a un progetto molto importante, che credo che vedremo presto, ma siamo sempre sul pezzo, quindi credo che il 2024 sarà ricco di continuazioni, di serie che abbiamo già visto nell'anno precedente, ma anche di nuove e importanti sorprese. Poi tantissime varie, entramo quello lo sapete, le vedremo presto insomma, ormai il 2024 alle porte direi. Allora abbiamo questo bellissimo album di figu, al quale, insomma stiamo parlando delle figu, quelli della mia generazione sono cresciuti con le figu sotto il banco, io invece che ascoltare lezione giocavo con le figurine dei calciatori, potessi lo farei anche oggi, ma credo che siano molto amate anche dalle nuove generazioni, testimone nel fatto che Panini Comics uscirà, anzi, è uscita con questo bellissimo album dedicato al mondo di Topolino. Mondo di Topolino inteso come la sua interezza, quindi la storia dei suoi personaggi e del suo mondo, e del suo mondo fantastico, il titolo recita così. È stato un progetto impegnativo che ha coinvolto sostanzialmente tutto lo staff creativo dei collaboratori di Topolino, sceneggiatori, disegnatori, coloristi, e contiene parecchie figu speciali, per cui, per esempio, io ho realizzato una serie di card, credo che siano circa 24-25, scusatemi, non ricordo il numero esatto, ma sono imbustabili e hanno un effetto diamante sotto. Trovo che siano molto ben riuscite, anche la confezione quadrata e il taglio così inusuale, quasi quadrato, lo trovo particolarmente carino. Insomma, è un'edizione che si percepisce avere un taglio non solo dedicato ai bambini, ma anche probabilmente ai lettori che amano questo tipo di mondo, cioè lettori con qualche anno in più, compreso il sottoscritto, ovviamente. Come avrete visto, recentemente su Topolino è stata pubblicata una cover dedicata a Steamboat Willie. Un'icona, no? Quando mi hanno detto che avremmo dovuto pubblicare una cover del genere, non ho avuto il minimo dubbio, perché Steamboat Willie è quello. Tutto sommato è stata molto più facile che altre copertine, dovendo riprendere assolutamente quel tipo di immagine iconica. Per cui, se devo dire la verità, ho preso un ferro impreciso dell'animazione e ho cercato di riprodurlo in modo assolutamente fedele, con piccolissime modifiche giusto per adattarlo alla nostra gabbia, che ha un formato verticale e con Mario Perrotta e con la redazione, poi si è pensato di dare a questa copertina ovviamente un taglio retro. Direi che non c'era, anche lì non avevamo possibilità di sbagliare. La fase in cui abbiamo avuto più dubbi forse è stata quella in cui si è pensato che tipo di logo è posizionare sopra, diciamo, alla cover. Per cui un logo seppiato, un logo in bianco e nero, un logo giallino. Abbiamo fatto un po' di prove e poi alla fine è stata pubblicata quella che tutti avevamo trovato in edicola. Devo dire che è stata una delle copertine che mi ha dato più soddisfazione negli ultimi tempi, perché mi hanno scritto in tanti, ho visto che è stata apprezzata molto. Dieci anni fa disegnai una quattroante abbastanza innovativa e aveva un formato abbastanza particolare, che era quello che ritroviamo qui. È passato un po' di tempo, sono passati dieci anni, quindi l'editore e il direttore Alex Bertani ha pensato bene perché non proponiamo una copertina simile che rappresenti per noi un traguardo importante. È stato un invito a nozze, un po' perché amo le immagini molto complicate e un po' perché ero molto affezionato alla copertina che disegnai ormai qualche anno fa. È quella che adesso potete trovare qui a Luca Comics e nelle fumetterie, insomma. Credo che sia molto ben riuscita, anche grazie alla superficie, al background opaco e ai personaggi lucidati. Poi, insomma, abbiamo cercato di posizionarne il più possibile, proprio per omaggiare vecchi personaggi che amiamo tutti e magari qualche personaggio che ha avuto le luci della ribalta in tempi un pochino più recenti. Potrei raccontare un sacco di aneddoti curiosi su questa copertina perché ho dovuto disegnarla praticamente su questo formato per evitare poi brutte sorprese in fase di stampa e poi perché se avessi disegnato più in piccolo avrei dovuto realizzare delle miniature. Quindi, sostanzialmente, l'originale è molto grande ed è stata una piccola guerra a cercare di trovare una composizione gradevole che si sviluppasse su quattro copertine, fondamentalmente. Qui arriviamo in fondo, abbiamo una partenza, diciamo, standard. Siamo partiti da dei personaggi che potessero essere, insomma, attrattivi. Quindi, ovviamente, Topolino, Zio Paperone, Gastone, che è un simbolo di portafortuna qualcun altro e poi, aprendo l'immagine, insomma, direi che esplode in tutta la sua barahonda fino a terminare concettualmente con Archimede che scatta un selfie a tutto il gruppo. La curiosità è che in fase di bozza io sono arrivato su Archimede, avevo sviluppato tutte le parti, poi mi rimaneva quest'angolino che ho detto come potrebbe svilupparsi la dinamica e ho disegnato Archimede che si scattava un selfie, mi sembrava trendy, tutto sommato simpatico. Quando Alex e i ragazzi della redazione hanno visto questo tipo di azione hanno pensato bene che tutta l'immagine dovesse, in qualche modo, raccontare questa sorta di selfie, no, nemmeno questa sorta, questo selfie di gruppo. Quindi ho dovuto riruotare tutti i personaggi, rendere le azioni plausibili. Questo per dimmi, insomma, che dietro c'è stato tanto lavoro, tanta cura, tanto amore e ho visto che è stata apprezzata anche da elettori. Veniteci a trovare che ne abbiamo parecchie qua a Lucca. Topolino è un personaggio che si sa adattare perfettamente a qualsiasi situazione e a qualsiasi tempo, ma credo che sia la forza di tutti i personaggi del mondo Disney. Riescono a passare gli anni adattandosi agli usi e ai costumi del caso. In una rappresentazione plastica, il Topolino di oggi, che racconta storie che sono adatte a, diciamo, a un lettore del 2023, ormai quasi 2024, e tutto sommato amabili anche da lettori che hanno iniziato a leggere Topolino anche 30-40 anni fa, come sottoscritto. Topolino in primis, ma tutti direi che sono personaggi senza tempo. I mondi di Topolino sono infiniti come le sue collaborazioni. Noi abbiamo avuto la fortuna già l'anno scorso, quindi non è una novità di avere con noi Licia. E devo dire che ha partecipato con un entusiasmo incredibile, come spesso accade quando si contattano scrittori, ma anche disegnatori che provengono da un altro tipo di di narrativa o di ambiente. Sembrano conoscere questo mondo come se ci fossero quasi nati. Non so, perché è una magia, forse quella Disney, che abbiamo culturalmente dentro di noi da generazioni ormai, tutto sommato. È in uscita Dactopia, in ritorno a Dactopia, ovviamente in collaborazione, come dicevamo, con Licia Troisi, Francesco Artibani e Francesco Di Polito. E per Luca Comics abbiamo realizzato questa particolare cover variant. Per la prima volta abbiamo utilizzato un effetto, diciamo, cornice, per cui abbiamo questa, la prima di copertina un pochino più rigida e poi sotto, aprendo, troviamo un effetto metal, secondo me molto carino, con, diciamo, una sorpresa inaspettata, perché in prima i nostri sono piuttosto tranquilli, poi incombe una minaccia che ben conosciamo. L'effetto metal credo che, insomma, sia sempre, è uno dei miei effetti preferiti. La vedo oggi, anche io per la prima volta, perché siamo corsi in stampa e abbiamo portato giù tutto il materiale a Luca. Che dire, la storia è molto movimentata, assolutamente particolare anche nella sua colorazione, perché Di Polito, che si è occupato, diciamo, del disegno, ha passato le parecchie ore a cercare di offrire qualche cosa in più sulla storia. Credo di dover ringraziare Licia Troisi a nome dell'editore, ma anche a nome di tutti i lettori, l'ancontreremo poi presto qui a Luca.